Nel primo pomeriggio di martedì 15 maggio a Pesero i militari della stazione dei carabinieri di Borgo Santa Maria hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e ricettazione in concorso due romeni di 44 e 46 anni originari del Vicentino e del Terramano nulla facenti e pregiudicati per reati specifici contro il patrimonio. I due uomini sono stati sorpresi dai militari immediatamente dopo aver portato via e danneggiato le placche antitaccheggio di 5 bottiglie di superalcolici all'interno del supermercato del centro commerciale Iper Rossini in via Gagari. Dopo il loro fermo le bottiglie di pregio sono state subito restituite al negozio. Il modus operandi dei due romeni consisteva nello scegliere ad opera di uno dei due ladri accuratamente le bottiglie più pregiate da rubare portandole in un angolo del supermercato meno in vista a loro parere dove con un magnete le bottiglie venivano private della placca antitaccheggio. A quel punto subentrava il secondo ladro che le prendeva e le nascondeva sotto un ampio sopravvito per poi passare le casse dopo aver effettuato il pagamento di merce irrisoria che aveva il solo scopo di non insospettire i cassieri del supermercato. I carabinieri hanno inoltre individuato un'autovettura stilo usata dai due rumeni all'interno del parcheggio nella quale è stato trovato un ingente bottino di oltre 40 bottiglie tra champagne, spumante pregiato e superalcolici di sicura provenienza illecita. Il valore globale della merce ritrovata è di oltre 2000 euro circa ed è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari. Le indagini successive dei carabinieri hanno anche permesso di denunciare i due rumeni per un altro furto effettuato con le stesse modalità sempre all'Iper Rossini il 2 maggio scorso. I due arrestati sono stati poi portati nel carcere di Pesaro a disposizione dell'autorità giudiziaria.